Stamana i carabinieri della compagnia di Trigiano, dopo mesi d'indagini, hanno tratto in arresto 5 pluri pregiudicati componenti della nota banda della BMW accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione e riciclaggio. Quattro di essi sono originari del nord dell'Albania, ma ormai residenti da oltre un ventennio nei territori di Cassano delle Murgie e Sant'Eramincolle, indagati altri tre soggetti di nazionalità italiana che sono stati individuati come fiancheggiatori. Da settembre 2018 a febbraio 2019, durante vere e proprie scorrerie, la banda metteva a segno numerosi colpi all'interno di esercizi commerciali, stazioni di servizio, bar e tabaccherie, oltre a numerosi furti di autovetture e assalti a bancomat di banche poste con l'utilizzo di esplosivo. Agli arrestati ritenuti pericolosi criminali vengono contestati oltre 20 reati e diverse centinaia di migliaia di euro di danni. Permessi hanno terrorizzato la provincia barese ed inoltre sono riusciti a mettere a segno altri colpi anche fuori regione, tra questi l'assalto ad un bancomat di comunanza a Paesino nella provincia di Ascoli Piceno. Nel corso delle attività investigative sono state sequestrate diverse autovetture di grossa cilindrata utilizzate per i colpi e parti delle re furtive.